Ennesimo incidente questa mattina in Arcelor Mittal, una pesante, una grave esplosione presso colata continua 2 di Acciaieria 2 con successivo incendio. Per miracolo, davvero per miracolo, per pura casualità non vi sono stati morti e ora non piangiamo, perdite umane, vite umane. Questo dimostra la inaffidabilità di Arcelor Mittal, una fabbrica che sta letteralmente collassando, che sta letteralmente crollando a pezzi, che non risponde agli standard minimi di sicurezza, come dimostrano i continui incidenti ripetuti in un arco di tempo brevissimo che si verificano puntualmente. Una fabbrica che in linea di continuità con Italsider, con Exilva, continua a produrre inquinamento con danni gravi alla salute, parliamo di morti e parliamo di tumori, ma parliamo anche di rischi gravissimi per i lavoratori, per i dipendenti che rischiano la vita. Ripeto, per pura casualità oggi non abbiamo pianto vite umane. Mi sono rivolto al direttore delle risorse umane, il dottor Arturo Ferrucci, che peraltro è tarantino e ho fatto una telefonata e ho detto direttore vorremmo capire di più su quello che è accaduto. È stato lapidario, mi ha dedicato tre secondi, ha risposto non ho nulla da dire, l'ho richiamato di nuovo, non mi importuni, l'ho chiamato la terza volta perché voglio civilmente e democraticamente confrontarmi, voglio risposte dal dottor Ferrucci e insieme a lui, insieme a me, le vuole una città intera, vogliono queste risposte i dipendenti di Arcelor Mittale e le loro famiglie, soprattutto che vedono a rischio la vita dei propri familiari, non ha risposto. Questo è evidentemente il rispetto, anzi il non rispetto che il dottor Ferrucci ha nei confronti della stampa libera. Il dottor Ferrucci è stato molto ma molto puntiglioso con i dipendenti, in maniera assurda a mio modo di vedere, perché sono state avviate delle procedure disciplinari nei confronti dei dipendenti che avevano condiviso il post di pubblicità per la fiction di Canale 5, Svegliati, amore mio, quella fiction con Sabrina Ferilli per capirci. Alcuni dipendenti avevano anche espresso delle valutazioni sui rischi, sulla situazione ambientale pesante, sui rischi che corrono i lavoratori, puntualmente, caro direttore Ferrucci, è partita la procedura disciplinare. Procedure disciplinari che partono così, che fioccano come neve se qualche dipendente dice ha, se qualche dipendente dissente, se qualche dipendente esprime il suo diritto alla vita, alla sicurezza, che nello stabilimento non c'è, caro direttore Ferrucci, come dimostrano gli incidenti. Bene, direttore, lei sta pensando a questo, è stato così puntiglioso con gli operai e non pensa a quello che è accaduto stamattina, dove qui è in gioco la vita degli operai. Non si tratta del post di critica che a suo avviso ledeva l'immagine, è stata detta la pura verità. Arcelor Vittal produce inquinamento, produce danni gravi alla salute dei tarantini, non lo scopro io ma lo dicono i dati. Arcelor Vittal mette a rischio, caro direttore Ferrucci, la vita dei dipendenti come dimostrano i continui incidenti, come l'incidente di oggi. Lei avrebbe dovuto avere l'educazione e il rispetto di rispondere, direttore Ferrucci, ma penso che il suo gesto di quasi sbattermi il telefono in faccia si commenta da solo. Mi rivolgo agli operai, ai dipendenti. Vedete, in questa fabbrica voi rischiate la vita, voi rischiate di entrare, di varcare quella soglia e di non vedere più, di aver visto per l'ultima volta i vostri familiari, vostra moglie, i bambini, i vostri genitori, i vostri fratelli e le vostre sorelle. Rendetevi conto dei rischi che correte, il mio non è allarmismo, è l'analisi di una fabbrica, di un catorcio che sta letteralmente crollando a pezzi, che ha 60 anni di vita ed un siderurgico, fisiologicamente, non può vivere più di 30-40 anni. Questa è la realtà, che piaccia o no. E allora il va chiusa, ex il va chiusa, Arcelor Vittal è chiusa, senza sé e senza ma, va chiusa, è uno strumento che può portare, che porta alla morte. Rendetevi conto, va chiusa, devono intervenire le istituzioni. Mi rivolgo a lei, signor Prefetto, che la massima rappresenta lo Stato a Taranto, signor Prefetto. Deve intervenire, deve intervenire per la chiusura, per i guasti, per i drammi ambientali che si verificano e per i rischi che corrono i dipendenti, che non sono carne da macello, sottolineiamolo, carne da macello, poveri dipendenti che vengono mandati in guerra, perché quella è una guerra per difendere la propria vita e per guadagnarsi un pezzo, un tozzo di pane a 800-1000 euro al mese, parlo soprattutto dei cassi integrati. Bene, signor Prefetto, perché non interviene? Io la invito, la sollecito ad intervenire per chiudere questa fabbrica. Idem dicasi al Sindaco, tante ordinanze, non una sola ordinanza di chiusura per ogni sforamento ed anche un'ordinanza di chiusura perché è a rischio l'incolumità, la sicurezza dei lavoratori. Lo dico al Sindaco come massima rappresentanza, soggetto che ha la massima rappresentanza relativa alla sanità in una città, nel comune, appunto dal primo cittadino amministrato. Mi rivolgo ancora a voi, dipendenti. Pensate un po' che se noi chiudessimo quel mostro, solo per smantellare e per bonificare e per riqualificare ci sarebbero 30 anni di lavoro. Voi lavorereste 30 anni e i soldi li metterebbe lo Stato, come lo Stato ora sta mettendo soldoni a fondo perduto per produrre un acciaio che non si vende, che è antieconomico, una fabbrica indebitata che sta crollando a pezzi, dei soldi che lo Stato butta e che invece dovrebbe impiegare per lo smantellamento. Voi lavorereste per 30 anni e parallelamente si svilupperebbe il turismo, lo sfruttamento delle risorse del mare, l'agricoltura. Queste sono le risorse di Taranto, non una fabbrica in cui si va, si lavora per un tozzo di pane, per 4 soldi e si rischia di non uscirne più vivi. Come dimostrano le immagini di stamattina che io sto mandando a Raffica e le farò vedere sempre. Direttore Ferrucci, io le ho esposto la situazione. Non il sottoscritto, non solo il sottoscritto, ma i tarantini, i dipendenti e le famiglie dei dipendenti vogliono risposte su quello che è accaduto questa mattina. Non si chiude il telefono in faccia di una persona, direttore Ferrucci. Bene, io penso di avere completato e penso che forse da lassù qualcuno ci voglia bene, se ha salvato questa mattina queste anime di Dio, questi operai che sono carne da macello, operai che appena dicono A, appena dissentono minimamente dall'azienda, appena esprimono la minima critica si trovano un rapporto, un procedimento disciplinare a loro carico. Prima ancora che arrivi una lettera di contestazione entrano nella fabbrica e si trovano i badge bloccati. Dov'è la democrazia? Lo chiedo a lei, direttore Ferrucci, mi dia risposte per cortesia e le dia a Taranto. Ricordate che Arcelor Mittal non è padrona della nostra città, ma purtroppo è ospite e prima o poi vi dobbiamo sbattere fuori da Taranto per i tanti guasti e disastri ambientali che state producendo all'esterno e all'interno dello stabilimento. Taranto senza Ilva, senza se e senza ma.